La Ceno d'Oro è il premio Camillo Marino a Mario Martone, regista di Capri Revolution in città omaggio all'inventore del Festival sull'Alto Piano di Bagnoli, che portò in Irpinia i grandi come Rea e Pasolini. Camillo Marino è una figura mitica del cinema in Campania e non soltanto, perché naturalmente è una figura molto amata in tutto il cinema italiano. Sono molto felice di ricevere questo premio, intanto perché è un premio intitolato Una figura così bella, che è stato dato a grandi registi, a grandi protagonisti del cinema, e poi in una città a Vellino, in Irpinia, insomma, io sono napoletano, quindi per me la Campania è un luogo pieno di ricchezze e l'Irpinia è una di questi grandi scrigni. Intanto, all'Exgil, la mostra fotodocumentaria con Pasolini Cominciamo, a cura di Paolo Speranza, sulla storia del Festival La Ceno d'Oro, fondato da Marino, Giacomo Donofrio e Pierpaolo Pasolini. È stato fortemente voluto questo abbinamento, la storia del cinema in Irpinia, in particolare della Ceno d'Oro, con le prospettive future dell'Eliseo, che oggi è ancora una struttura chiusa, noi abbiamo cercato di farla aprire, anche se solo parzialmente, dove era possibile, per ospitare almeno una mostra, in attesa di poter vedere dei film, di poter assistere a spettacoli teatrali, musicali e così via. Questa mostra in 30 pannelle, più di 100 immagini, con la grafica di Rosi Ampollino, racconta un'utopia che si è concretizzata 60 anni fa.